Musica Seconda edizione del nostro telegiornale, buonasera e bentrovati dopo aver ufficializzato la candidatura alle primarie del centro-sinistra per la scelta del candidato governatore, Claudio Fava si autosospende dalla presidenza della Commissione Antimafia Siciliana all'annuncio dopo l'approvazione delle ultime due relazioni. Sentiamo Salvo Couturi. L'annuncio nella tarda mattinata a Palazzo dei Normanni a Palermo. Claudio Fava si è autosospeso dalla presidenza dell'antimafia siciliana dopo quattro anni e mezzo di attività. Una scelta dettata dalla decisione di correre alle primarie del centro-sinistra per la corsa candidato alla presidenza della regione siciliana. Fava lascia dopo l'approvazione delle ultime due scontanti in relazione dell'antimafia, la prima in relazione dell'azienda siciliana e trasporti, finita al centro di un'inchiesta della Procura di Palermo e l'altra collegata agli incendi che hanno devastato la Sicilia lo scorso anno. L'esponente di Cento Passi, nel poveriggio alla Baia Verde di Acicastello, ha preso parte all'incontro dal tema Commissione Antimafia e cinque anni di inchieste dove ha rendito contato sull'attività di mandato, ricordando le 300 sedute, alle 600 audizioni, l'approvazione di due disegni di legge, codice etico e beni confiscati, ed ha attuato 12 relazioni antimafia su altrettanti temi scottanti di cui la Commissione si è fatta carico, in un clima di massima collaborazione e responsabilità di tutti i commissari, tra cui diversi esponenti del centro-destra, ha voluto sottolineare non l'orevole Fava. Il parlamentare regionale è sempre in prima linea nel contrasto al malaffare interno alla pubblica amministrazione centrale, nelle articolazioni periferiche, nella lotta alla criminalità organizzata, con l'addio alla presidenza dell'antimafia siciliana, si candida ufficialmente alle primarie del centro-sinistra, puntando alla presidenza della regione siciliana. Avevo detto che il 31 maggio, dopo aver approvato queste ultime due relazioni, avrei fatto un passo di lato, che vuol dire che non mi asterrò dal partecipare come componente, come presidente, e lascio la presidenza alle mie due vicepresidenti, lo considero una questione di opportunità e arriva alla conclusione di un lavoro che però oggi mi è piaciuto, assieme ai colleghi, poter rivendicare. Abbiamo approvato 12 relazioni, abbiamo fatto 300 audizioni, 600 audizioni, abbiamo raccolto 250.000 pagine di atti acquisiti da questa commissione, abbiamo presentato due progetti legge, tutte le 12 relazioni sono state approvate all'unanimità. mi sembra che i temi sui quali ci siamo cimentati e misurati non sono temi neutrali, anche rispetto alla politica, dai rifiuti alla sanità, ai beni confiscati, alle periferie, alle partecipate. E il fatto che questo lavoro abbia portato a un voto convinto, unanimo, da parte di tutti i commissari, ricordo che 8 commissari su 13, 9 commissari su 13 sono del centro-destra. Io lo considero dal punto di vista mio, personale, politico, la più bella gratificazione potessi avere, perché dimostra la qualità del lavoro che abbiamo costruito in questi anni. Cronaca, i muettari scontate o addirittura annullate per parenti e amici, denunciato dalla Guardia di Finanza, un dipendente del Comune di Palermo avrebbe proseguito con i tagli, nonostante essere stato trasferito ad un altro ufficio. Per familiari e amici aveva sempre un occhio di riguardo, lo sconto per loro era assicurato. Ad applicarlo però non era un negoziante, ma un dipendente dell'Ufficio Tributi del Comune di Palermo, che avrebbe registrato pagamenti di IMU o Tari non avvenuti o ridotto, in alcuni casi, gli importi dovuti senza giustificazioni documentali, procurando un mancato incasso di circa 16.000 euro. E' questa l'accusa contestata dalla Procura del Capoluogo Siciliano ad un uomo indagato per frode informatiche e accesso abusivo al sistema informatico che è stato sospeso un anno dall'esercizio del pubblico ufficio. Il provvedimento emesso dal GIP è stato eseguito dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo. Le indagini dell'operazione sconto d'imposta delle fiamme gialle del nucleo di pulizia economico-finanziaria sono state avviate dopo la segnalazione arrivata dal Comune di operazioni anomale effettuate sulla banca dati utilizzata per la gestione dei pagamenti dei tributi di IMU e Tari. L'inchiesta si avvalsa anche di intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione. Senti, è arrivata alla Tari sia a me sia a mio figlio. Ora quella di mio figlio tu mi hai detto che si deve aggiornare. Se la dobbiamo aggiornare. E allora che devo fare? Allora, fammi una fotografia di quella che ci è arrivata, del dettaglio così. E allora l'ha sistemato, perché chi disegnava il cassetto dei tributi... Secondo l'accusa il dipendente comunale avrebbe registrato versamenti e pagamenti mai avvenuti e ridotto gli importi dovuti senza giustificazioni. Gli investigatori avrebbero riscontrato un rilevante numero di accessi abusivi al sistema informatico. Il dipendente, contesta l'accusa, avrebbe proseguito con i tagli alle tasse anche quando, dopo un procedimento disciplinare, era stato trasferito in un altro ufficio. E c'è stata un'altra operazione delle fiamme gialle, ma stavolta in provincia di Catania, scoperti 21 furbetti del reddito di cittadinanza. Percepivano il reddito di cittadinanza e al contempo movimentavano su conti di gioco online a loro intestati rilevanti somme di denaro ritenute dagli investigatori non congrue rispetto al loro reddito e avrebbero omesso di dichiarare vincite ottenute per oltre 3 milioni e 700 mila euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato 21 persone che avrebbero rincassato il sussidio per un danno alle casse dello Stato stimato in oltre 225 mila euro. Secondo le indagini dei militari della compagnia di riposto che hanno incrociato i dati nel loro possesso con quelli dell'Inps, si tratta di furbetti che non sarebbero risultati in possesso dei requisiti necessari per richiedere e ottenere il contributo. In pratica dichiaravano redditi minimi, ma spostavano sul web cifre di denaro a 6-0 che investivano sui giochi online, il tutto così come le vincite che effettuavano senza dichiarare alcunché al fisco. La loro situazione, oltre che alla procura etnea, è stata segnalata dalle fiamme gialle anche all'Istituto di Previdenza che ha collaborato agli accertamenti per la sospensione del beneficio e il recupero delle somme erogate. I carabinieri di Siracusa hanno fermato un quarantenne, Leonardo Adamo, ritenuto responsabile del ferimento a colpi di pistola avvenuto ieri nella zona di Santa Panagia, nel capoluogo siracusano appunto, di un uomo di 36 anni. Adamo, che si trova adesso agli arresti domiciliari, si è presentato alla caserma dei militari dell'arma collaborando con gli investigatori al ritrovamento della pistola e ha spiegato di aver agito per motivi passionali i colpi di pistola. Sono stati esplosi a pochi metri da un istituto scolastico. La vittima dell'agguato è stata ferita ad una gamba ma non è in pericolo di vita. Cambiamo argomento, sono tornati in piazza preoccupati per il loro futuro occupazionale, i lavoratori dei call center di Palermo ad aggiungersi, anche gli operatori del numero di pubblica utilità del Ministero della Salute. Sentiamo Andrea Tutto il mondo. Sono tornati ancora una volta in piazza a Palermo i lavoratori dei call center, sempre più preoccupati per il proprio futuro. Alla nota vertenza Ita, Covisian, Almaviva, ancora in fase di stallo e in attesa della convocazione ministeriale, a pochi giorni dal licenziamento collettivo, adesso si aggiunge la crisi del 1500 Ministero della Salute che ha operato durante il difficile periodo della pandemia. Il servizio di pubblica utilità, a fronte di un drastico calo di chiamate, getta i lavoratori in una situazione di incertezza e di angoscia. La nostra azienda, nonché il Ministero, ci ha chiamato a fronteggiare un'emergenza che ovviamente ha coinvolto tutti i lavoratori. In particolare ci hanno spostato da altre commesse per poterci aiutare a fronteggiare questa emergenza. L'abbiamo fatto con tanto impegno, con tanta professionalità e soprattutto l'empatia, soprattutto perché tutti eravamo coinvolti in questa emergenza Covid. Più fa il tempo e più siamo circolati solo da tanto silenzio. Non abbiamo ad oggi ancora nessuna risposta in merito. L'ultima convocazione del tavolo, ovvero solo la prima, è stata il 20 di aprile. Da allora il silenzio totale. Nessuno ci ha dato informazioni o risposte. Noi abbiamo chiesto l'intervento in tutte le associazioni politiche, abbiamo chiesto ovviamente attraverso le nostre manifestazioni, attraverso i nostri sit-in, attraverso i nostri portai. Cerchiamo di far sentire la nostra voce, che adesso è diventata una vera e propria disparazione, perché non ne possiamo più. Lo smembramento del comparto, che sul territorio dà occupazione a circa 10.000 persone, avrebbe ricadute sociali difficilmente sostenibili per la città, per un settore con poche regole che spiegano i sindacati, spesso vengono disattese, anche quando le aziende committenti sono pubbliche. L'intero settore è fortemente a rischio in tutta la Sicilia. Considerando che in Sicilia ci sono più di 10.000 addetti nel mondo degli outsourcer, si rischia seriamente un'esplosione di tutto il settore. Sul Palermo siamo impegnati in diverse vertenze. Quella più importante ad oggi è la vertenza ITA che ci vede seriamente preoccupati. Dal Ministero e quindi dal Governo non si muove nulla, non c'è ancora stabilita una data per un tavolo di trattativa, i colleghi, i lavoratori tutti sono seriamente preoccupati. Non c'è un futuro e la data del 20 giugno, che è la data della chiusura della procedura di licenziamento in Covisian, si avvicina sempre più e ad oggi non abbiamo alcuna certezza. Per tale ragione i sindacati tornano a chiedere con forza l'apertura di un tavolo ministeriale di crisi per scongiurare un collasso occupazionale che a Palermo non avrebbe precedenti. Crediamo che comunque occorra un tavolo ministeriale, lo chiediamo a gran voce già da settimane, speriamo che la prossima settimana si muova qualcosa perché questi lavoratori attendono già da troppo tempo. La situazione si è complicata anche in Almaviva per la vicenda del calo di volumi e di lavoro che c'è sulla commessa del 1.500 del Ministero della Salute dove si è raggiunto un picco dell'80% di ammortizzatore sociale. A questa cosa si aggiunge alla tristamente nota vicenda del Cossenter ITA dove ci sono licenziamenti aperti per 543 tre persone fra Covizian che attualmente gestisce il Cossenter ITA e quelli di Almaviva che erano in attesa di transitare su Covizian per via di quell'accordo che il 21 ottobre si era siglato al Ministro del Lavoro e che qualcuno sta disattendendo. Ancora sindacale, riunione in prefettura a Catania sulle condizioni dei lavoratori dell'AMTS problematiche sollevate dalle organizzazioni di categoria si va verso uno sciopero e una manifestazione di piazza. Francesco La Rosa Non c'è stata al momento l'attesa schiarita nell'attentativo di riconciliazione per il lavoratore di AMTS Catania SPA. Stamattina al termine dell'incontro in prefettura volti bui e delusi da parte dei sindacalisti che hanno rappresentato i lavoratori. Tra gli argomenti esposti in occasione dell'incontro prefettizio, l'accordo integrativo aziendale in merito di orario di lavoro con turni, modalità ed erogazione premi, la calente organizzazione dell'officina, i turni di guida straordinario, le buste paga, l'estensione di reperibilità, la sicurezza, la mobilità interaziendale ed altri argomenti quelli posti sul tappeto. Ma le risposte non sono state esaurienti, tanto che le organizzazioni sindacali hanno già annunciato uno sciopero con una grande manifestazione che si terrà in Piazza Università nei prossimi giorni. Purtroppo l'azienda per l'ennesima volta ha dimostrato di chiudere assolutamente con le organizzazioni sindacali. La grande cosa è che tutti e cinque sindacali firmatari di contratto siamo uniti per il bene dei lavoratori. Oggi più che mai non possiamo assolutamente dimenticarci quello che sta accadendo. Una città che purtroppo sta vivendo momenti particolari dove vede il trasporto pubblico locale ancora sempre più in difficoltà. I lavoratori che addirittura sono stati additati dall'amministratore unico e dal direttore generale a lasciare gli autobus su fermi ad andare via. Hanno dichiarato il falso pur di saperlo, è una cosa assurda, addirittura le persone si rivolgono contro di noi perché è come se noi intempiamo il servizio. Non è così, non sono all'altezza di garantire la continuità del trasporto a Catania. Oggi abbiamo chiesto di fare luce su punti importantissimi, le buste paga, l'orario di lavoro. Guardate che oggi hanno assunto un po' di tempo fa 20 autisti per arrivare a 40 perché chi viene a Catania va via, scappa, non ha quella volontà di lavorare in un'azienda dove purtroppo non funziona nulla. È gravissimo, è da tempo che tutte le organizzazioni sindacali denunciano questo. Quali a questo punto le prospettive? A questo punto non potremo fare altro che proclamare la prima azione di sciopero del lavoratore di MTS che sarà come prevista dalla legge di 4 ore. Ma soprattutto chiederemo a questo punto l'intervento dell'amministrazione comunale, quindi del sindaco efficiente funzioni che anche se sarà alle partecipate. Perché oggi per l'ennesima volta abbiamo visto un atteggiamento di netta chiusura da parte dell'azienda, di poco rispetto nei confondi dell'evoluzione sindacale e del lavoratore di MTS. I lavoratori meritano rispetto, meritano di essere pagati per quello che producono. Non è possibile ogni mese, ogni mese da due anni a questa parte, rincorrere soluzioni che non ci sono al problema delle buste paghe. Abbiamo posto dei problemi seri per quanto riguarda l'accordo di secondo livello. L'azienda tra l'altro ha anche avviato delle procedure di interpello con le altre partecipate per prendere il personale, non guardando prima all'interno, quindi un'ulteriore panelizzazione per i lavoratori. I sindacati lamentano in special modo il mancato accoglimento delle varie problematiche enunciate in più punti. Nelle ultime due riunioni, sia in azienda che in prefettura, su 11 punti nessun punto è stato risolto, quindi non hanno portato la risoluzione dei problemi, ma parlano solo dell'accordo, dell'accordo che non si è firmato, non è solo il problema dell'accordo. Ancora ad oggi lottiamo per l'aggressione ai conducenti e noi cosa facciamo come amministrazione? Facciamo una dichiarazione contro i conducenti che si assentano, quindi di cosa stiamo parlando. Parliamo d'altro, torna fruibile la scala dei turchi a Realmonte nell'Agrigentino già la prossima settimana, il sito potrebbe riaprire. Guenda Garozzo. A Realmonte, in provincia di Agrigento, la scala dei turchi sarà presto riaperta. Torna la fruizione dei turisti, la scogliera di Marna Bianca, famosa in tutto il mondo, secondo indiscrezioni, potrebbe essere visitata già a partire dalla prossima settimana, stando alle decisioni venute fuori dall'ultimo Consiglio Comunale, grazie anche all'accordo raggiunto tra la regione siciliana ed il privato, proprietario di una parte del costone. L'amministrazione comunale è già al lavoro per accelerare il più possibile le procedure, inviata anche una lettera all'assessorato regionale all'ambiente e territorio. Potrebbe dunque adesso definirsi conclusa la lunga e travagliata vicenda anche legata a vincoli di natura giudiziaria che ha riguardato la scalinata, la cui gestione sarà temporaneamente affidata al comune di Realmonte. Adesso la parola passa proprio alla regione. Intanto serve il potenziamento dei servizi di controllo e sicurezza. Appena sei mesi fa la costa sfregiata da due persone che furono identificate qualche giorno dopo. Polvere di ossido di ferro che fu poi ripulita da volontari ed esponenti della politica locale. Uno sfregio che scatenò clamore per uno dei luoghi che contraddistingue la nostra isola in assoluto da visitare ed apprezzare in tutto il suo splendore. Altro punto poi sarà la regolamentazione del numero dei turisti. 50 a tour e non più di 2.000 al giorno. Ipotesi queste a cui si sta lavorando, non trascurando l'idea di far pagare anche un ticket a persona di 3 euro. Fondi che sarebbero reinvestiti per la tutela del sito. Nuovi controlli ammascali su sversamenti fognari in mare scattati altri sfratti. Scarichi in mare nel mirino della guardia costiera di riposto, del comune di Mascali, dell'Aspe e della polizia municipale ancora le residenze sul lungomare di Fondachello. Dopo le attività di monitoraggio delle scorse settimane con il sindaco in prima linea nella lotta all'inquinamento dello specchio acqueo che si apre nella frazione marinara, nuovi divieti di abitazione per una sessantina di appartamenti. Alcuni degli occupanti presenti al momento del controllo sfrattati perché gli alloggi dichiarati inutilizzabili. Questo perché si è scoperto che, come già verificato per i circa 200 immobili del complesso residenziale, la cui costruzione risale agli anni Ottanta e passato a setaccia ad inizio mese, le condutture dei singoli alloggi confluiscono nei canaloni che poi sfociano in mare. Risultato conseguito grazie a tecniche che attraverso l'immissione di coloranti fluidi hanno permesso di seguire passo passo il percorso degli scarichi abitativi. Abbiamo proseguito in quelle operazioni diciamo già avviate per altri gruppi di palazzine, abbiamo ancora una volta accertato che altre palazzine scaricavano i reflui nella rete acqua e bianca che a sua volta confluisce con il canale, il canale presente nella zona in questione e che a sua volta poi scarica a mare. Chiaramente il problema ormai è emerso e andremo sicuramente fino in fondo, nel senso per una questione anche di equità e di giustizia andremo ad accertare tutte le altre situazioni in cui si possono verificare inconvenienti del genere nei limiti del tempo e delle risorse disponibili. Abbiamo rilevato altre due palazzine, le operazioni proseguiranno nei primi mesi di giugno per altre due o tre palazzine e poi c'è un altro comparto di questo grosso residence che sarà oggetto di accertamento in cui andremo a verificare se c'è lo stesso inconveniente o meno. Saranno le indagini in corso ad accertare le singole responsabilità. Abbiamo riscontrato in tutti questi sovraluoghi che c'è una grande collaborazione sia con gli amministratori, con i condomini, i quali venendo in una zona come Fondaghello per soffrire del mare, loro, le loro famiglie, i loro bambini vogliono come noi avere un mare pulito. I nostri uffici insieme alla Capitanele Porta, all'ASPE hanno fatto ulteriori controlli, questo fa parte di un programma che è stato stabilito di controllare quelli che sono gli scarichi dei vari edifici che esistono in quell'area. Noi come amministrazione insieme all'ufficio tecnico stiamo lavorando con certamente la necessità di ripristinare la possibilità da parte di questi condomini di poter utilizzare gli immobili perché giustamente è un loro diritto e ovviamente stiamo collaborando con i loro tecnici per poter realizzare quelle che sono le giuste attenzioni e i giusti lavori per poter avere una depurazione fatta nel modo corretto e come è previsto dalla legge. Pertanto tutto ciò certamente nel tempo andrà a migliorare non solo il mare ma anche la fruizione degli immobili da parte degli utenti. E' ovvio che tutto questo non può finire con il lavoro di ieri o degli altri giorni perché verranno verificate altri luoghi già che abbiamo una zona bellissima, abbiamo dei canali che hanno l'acqua della nostra Etna pulita ma poi vengono sporcate spesso da chi magari in modo non consone a quello che è il giusto modo di conferire e ha in questi anni trascurato i propri scarichi. Un milione di euro dalla regione per la messa in sicurezza del torrente Lavinario Platani in un tratto nel territorio del comune di Acicatena considerato ad alto rischio esondazione. Un milione di euro fondi regionali per l'assestamento del torrente Lavinario Platani nel tratto tra via Spoto e via Turi d'Agostino. Siamo nel popoloso quartiere di Santa Lucia da Acicatena considerato ad elevato rischio idrogeologico. Qui il corso d'acqua esprime il massimo della sua potenza dirompente e non senza responsabilità da parte dell'uomo che ha ristretto il passaggio in canalone di cemento modificando la portata originaria specie in questo dislivello naturale con restringimenti edificati senza tenere conto della naturale portata della massa d'acqua. La natura alla lunga si riprende sempre ciò che ne viene sottratto. I lavori prevedono l'ampliamento degli argini e l'abbassamento dell'alvio torrentizio oltre all'adeguamento del tratto interrato insufficiente a smaltire un eventuale blocco da detriti in virtù dell'aumentato volume dei flussi in seguito ai ripetuti fenomeni alluvionali. Si tratta di un finanziamento parallelo all'appannaggio economico di ulteriori 4,5 milioni di euro per la messa in sicurezza del torrente a monte nella parte tombata che attraversa il centro cittadino sino al confine con AC Platani dove il corso d'acqua prosegue sino alla foce di Capomolini ed è regolato dalle vasche di laminazione su via Volano. Il laminaio Platani nel corso dell'ultimo mezzo secolo ha evidenziato tutta una serie di criticità dovute alla forte antropizzazione di alcune aree a ridosso del torrente e da anni si discute dell'opportunità di mettere in sicurezza almeno i tratti più a rischio per l'ingumunità pubblica che interessa migliaia di residenti in particolar modo tra Cicatena e Celiare. Subito dopo l'estate dovrebbero essere appaltati i lavori e completati nell'arco di un paio di mesi se non ci saranno intoppi di natura burocratica essendo la zona interessata dal passaggio di sottoservizi. Finalmente va a buon fine, va a conclusione ed è un primo intervento per l'importo di un milione di euro, un altro successivo per l'importo di 4 milioni e 2 andrà in gara tra qualche mese ma parliamo di questo, parliamo di questo punto critico che è il più critico in assoluto ed è il noto tra via Spoto e via Turi d'Agostino. Questo intervento di cui la gara è stata giudicata qualche giorno fa prevederà l'abbattimento attuale del vecchio ponte che strozza tra via Spoto e via Turi d'Agostino, l'abbattimento delle caditoie attuali per essere rifatte e l'abbassamento del letto del torrente. Quindi ci sarà questo intervento tra virgolette rivoluzionario che porrà fine a questa strozzatura perché di fatto questo è ed essendo il punto più vulnerabile della criticità del torrente il problema si dovrebbe risolvere. Quindi partiamo da qua per poi andare a completare tutta l'opera continuando da lì per arrivare sino sotto la villa comunale ad arrivare ai confini con l'Ace Platani, con l'altro, con successivo intervento che verrà. Ci spostiamo a Giardini Naxos dove riprendono le attività culturali all'interno del Parco archeologico Naxos Taormina, protagonista delle scuole. Il Parco archeologico Naxos Taormina che oltre alle rovine della prima colonia greca in Sicilia a Novere Teatro Antico, Isola Bella e l'area museale di Francavilla di Sicilia riprende le attività ludico-recreative dopo due anni di stop a causa della pandemia e lo fa in grande stile con una serie di iniziative in cartellone con protagonisti gli studenti delle scuole superiori e gli alunni dei comprensivi. Tornano anche i turisti attratti dalla bellezza dei luoghi, non solo mare e strutture ricettive di livello, ma anche cultura con un ricco calendario di attività estive sino al prossimo settembre. Nelle immagini il maggio dei libri su proposta della direttrice del Parco Gabriella Tigano su Achille Ulisse in un contesto paesaggistico che trasuda di letteratura greca a Giardini fu la prima colonia greca in Sicilia. L'insediamento risale al 735 a.C. come testimoniano le vestigia conservate nell'area museale del bellissimo Parco archeologico della località turistica. Qui, grazie alla fondazione Naxos, è andata in scena la passeggiata archeologica drammatizzata con attoni in costume, restituendo storicità e luoghi con rappresentazioni teatrali classiche e la narrazione del sito su testi ufficiali, opere di ricercatori che nel corso dei secoli hanno ricostruito vite e costumi del tempo. Protagonista anche la bellissima Baia con il convegno dal titolo in mare di Naxos. Tra storia e fantasia sono solo alcuni degli appuntamenti pianificati in collaborazione con l'amministrazione comunale. Il sindaco Giorgio Stracuzzi, alla ritrovata libertà post-covid-19, risponde con tutta una serie di appuntamenti ad ampio respiro formativo con le scuole cittadine e interpreti del territorio della sua storia, che affonde le radici nell'arte e nella cultura greca, al di fuori delle aule scolastiche e con la partecipazione di autori classici capaci di restituire attualità a testi di letteratura antica. Abbiamo raggiunto e attuato una collaborazione con la dottoressa Tigano, che è la responsabile del parco e stiamo usufruendo del parco con delle attività che saranno fatte lungo il mese di giugno, luglio e agosto con parecchie manifestazioni e spettacoli. Le scuole vengono coinvolte, sono protagoniste? Ieri sono state protagoniste, infatti, le scuole. Abbiamo discusso, visto questi ragazzi che hanno fatto diverse manifestazioni, che sono state molto apprezzate dal pubblico. Con il sindaco Stracuzzi torna la cultura a Giardini Naxos? Ma è uno dei miei obiettivi, perché la cultura per me rappresenta un qualcosa di importante e su cui si può costruire molto per questo paese. Oggi si celebra la giornata mondiale antifumo a Catania, conferenza sulla riduzione del danno causato dalle sigarette. La riduzione dei danni causate dal fumo con rischi e benefici dei prodotti senza combustione su questa tematica si è incentrata la conferenza nazionale COER organizzata a Catania in occasione della giornata mondiale antifumo, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un appuntamento al quale prendono parte tutti i più importanti ricercatori italiani nel campo della ricerca sulla riduzione del danno da fumo, nonché gli esponenti delle associazioni di settore. Un approfondito occasione di confronto su un problema di grande attualità. Era doveroso da parte del Centro di Eccellenza per l'accelerazione e la riduzione del rischio celebrare appunto questa giornata in modo decoroso. Per noi in modo decoroso è stato declinato nel invitare tutte le più grandi teste pensanti nazionali che hanno espresso ottima ricerca nell'ambito della riduzione del rischio con l'obiettivo di cercare di proporre e promuovere la riduzione del rischio come soluzione finale alla lotta del tabaggismo. Il tavolo di confronto è importante, noi siamo apertissimi a qualsiasi confronto, con qualsiasi istituzione, però bisogna venire armati di evidenze scientifiche spogliandosi di moralismi ed ideologie inutili. Di particolare interesse la relazione di Maria Luisa Brandi dell'Università di Firenze che si è soffermata sugli effetti del fumo e dello svapo sulla salute delle ossa. La nicotina e il fumo da sigaretta soprattutto è stato messo fra i fattori di rischio di frattura, quindi quando noi somministriamo una carta di rischio di frattura c'è anche fuma o non fuma. Quindi è chiaro che un effetto negativo della molecola sulle cellule e osse è stato dimostrato in vitro. Quello che noi non sappiamo è intanto cosa fanno quantità diverse, quindi per esempio sul fumo di sigaretta elettronica verso il fumo, lo smoking vero e proprio della sigaretta non elettronica non ci sono dati oggi in vivo che ci facciano dire c'è una differenza di effetto. E poi ci sono troppe cose che non sono comprese nella nicotina e nella sua interazione, per esempio con il suo recettore, perché ricordiamoci che la nicotina interagisce con il recettore acetilcolinergico e noi sappiamo anche che alcuni recettori steroidei, fra cui per esempio quello per gli estrogeni, hanno interazioni con il recettore acetilcolinergico e anche con la nicotina per sé. Quindi su questi argomenti, su cui veramente è stato pubblicato relativamente poco, si dovrebbe fare di più. E poi quando noi abbiamo una sostanza naturale come la nicotina la dobbiamo studiare, è nostro obbligo proprio studiarla. È tutto pronto a Catania per l'inaugurazione di Etna Comics, domani il via ufficiale. Due anni difficili, vissuti, affari spenti a causa della pandemia, ma adesso tutto è pronto per l'edizione 2022 di Etna Comics, festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. Ultimi ritocchi nella giornata odierna, prima dell'inaugurazione ufficiale, fissata per domattina alle 10. il centro feristico reciminiere di Catania e un pullulare di operatori, intenti a sistemare i vari stand e dall'1 al 5 giugno. Saranno tantissimi visitatori provenienti da ogni dove, per una chermesse attesissima. Siamo pronti e carichissimi per tornare in pista e fare questo taglio del nastro dopo tre anni, di cui due passati in questo stato, così di quiescenza, che ci ha fatto riflettere un po' sulle cose da migliorare, su cosa volevamo veramente offrire al nostro pubblico e devo dire che è uscito fuori un programma importante, d'eccellenza, un sacco di nomi, tantissimi contenuti, cinque giorni che si allineano a diverse tipologie di preferenze e gusti. Etna Comics, lo ripeto sempre, è un festival per tutti, dai 3 ai 93 anni e siamo veramente pronti per tagliare questo nastro e aprire il sipario. Quali sono le novità essenziali di questa edizione 2022? Ogni anno c'è sempre una novità, siamo sempre diversi, ci evolviamo, sicuramente quest'anno abbiamo aggiunto due aree tematiche, l'area letteratura fantasy con ospiti come Alicia Troisi, che è una delle più grandi e importanti firme che ci sono in Italia, un'area invece dedicata al fumetto erotico, Tabucom, dove affronteremo i temi dell'emancipazione non solo sessuale ma anche dell'essere, quindi è una cosa molto delicata, ovviamente alcune cose in quel caso saranno vietate ai minori ma insomma il programma è anche aperto a tutti e sarà bello assistere. Una manifestazione che non è assolutamente localizzata perché arriveranno anche da lontano per partecipare eterna comics? Sì, noi siamo in una manifestazione internazionale, non solo per gli stendisti che insomma fanno parte del nostro parterre ma anche perché abbiamo la contezza di biglietti che vendiamo praticamente tutto il mondo, Giappone, Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna, quindi è chiaro che la città deve essere pronta ad accogliere anche un flusso turistico importante. Nuovamente in studio, come sempre dopo la pubblicità diamo il concetto sgardo alle previsioni del tempo sulla Sicilia per la giornata di domani. Mercoledì 1 giugno il cielo sull'isola sarà ovunque sereno, i venti assenti, i mari calmi, le temperature faranno molto caldo, scideranno da 15 gradi a Enna a 37, a Siracusa a Catania a 23 gradi la minima a 36, la massima in grafica tutte le altre. Non ci sono altre notizie, si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale che come sempre potrete seguire sul web, sul nostro sito all'indirizzo reitv.it ma anche sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Un nuovo appuntamento in diretta con Nora Tg domani alle 14. A tutti voi grazie per averci seguito e buona serata.